Per il cinema d'autore è stata la settimana di Venezia a Napoli. Per il secondo anno consecutivo una selezione di titoli presentati alla mostra d'arte cinematografica di Venezia è stata diffusa in nove sale dei cinema del centro e della periferia e seguirà un appendice invernale nelle scuole superiori di Scampia, mentre al PAN è stata presentata una retrospettiva di dieci film presentati nel corso delle precedenti mostre e voluta dalla Biennale in occasione dell'ottantesimo anniversario della mostra. Oltre al vincitore del Leone d'Oro, Pietà di Kim Ki-duk, si sono viste pellicole di culto e trame di estrema attualità, maestri del set e giovani firme nazionali ed internazionali alternati fra proiezioni di incontri con registi, attori, produttori e critici. Il tutto per confrontarsi con storie contemporanee del passato che su grande schermo trovano un senso ed una prospettiva anche in argomenti attuali come storie metropolitane, carceri, poeti, mafia, adolescenza, ecologia e consumismo. In sette giorni di sale molto affollate la rassegna ha portato in città molti film d'autore fuori dalla grande distribuzione che altrimenti non sarebbero arrivati in città ed ha consolidato la collaborazione tra la mostra del cinema di Venezia, il ministero dei beni culturali e direzione cinema, l'università Federico II e l'assessorato alla cultura della città di Napoli.